Cornice di eccezione presso il Pio Sodalizio dei Piceni nel complesso monumentale di San Salvatore in Laura a Roma per l'inaugurazione della mostra La vita dipinta di Franco Fontanella antologica per i 50 anni di attività dell'artigiano dell'arte marchigiano che proseguirà a Roma fino al primo novembre per poi spostarsi alla Mole Van Vitelliana di Ancona dall'8 dicembre alle 6 gennaio 2022 Questa per me è una mostra che è la mostra perché racchiude i miei 50 anni di attività dalle origini fino alla produzione attuale La mostra dell'artista Osimano si propone di raccontare come è nato e si è sviluppato nel tempo il suo talento attraverso l'esposizione di circa 90 dipinti e l'ausilio di diverse videoinstallazioni Curatori sono Stefano Papetti e Gino Trolli con la partecipazione di Vittorio Sgarbi In una stanza come questa, così armoniosa ci può vedere il dubbio di essere davanti a un falsario che è in grado di fare Leonardo, Van Gogh, Parmigianino, Caravaggio In realtà sono opere di Franco Fontanella che sono certamente copie d'autore e indicano la dignità con cui un artista si misura con la storia perché non puoi pensare di dipingere come se non avessi il passato alle spalle Lui sente l'evocazione di questi artisti e la trasmette a chi ci guarda, a chi li guarda con le copie All'inaugurazione romana hanno partecipato anche il presidente della regione marca Quaroli e l'assessore alla cultura Latini Ho apprezzato sul corso di Porto Reganati scambiando quel dipinto per una foto poi sono tornato e mi sono accorto che non si trattava di una foto ma piuttosto di un dipinto e mi ha incuriosito la sua arte straordinaria nel rappresentare i nostri paesaggi La cosa importante è valorizzare i nostri talenti in giro per il mondo Oggi siamo a Roma, Caput Mundi e quindi siamo veramente orgogliosi di avere questi nostri talenti della nostra regione L'essenza dell'arte di Franco Fontanella è nell'innata capacità di cogliere la bellezza disseminata nelle realtà e di esaltarla attraverso le luci e le ombre della sua arte